Un programma ricco di incontri, dibattiti, presentazioni di libri, laboratori e workshop con più di 40 eventi con scienziati, professori, giornalisti e divulgatori è quello previsto dalla seconda edizione di Lector in Scienza, festival di divulgazione scientifica in programma a Conversano, dal 25 al 27 maggio prossimi. Il tema prescelto si concentra sui cambiamenti climatici, ma anche su emergenza ecologica, transizione digitale, guerre e tragedia, pandemica, emblematico il titolo La misura del mondo, una terra, la nostra terra. Noi abbiamo avuto qui il premio Nobel Parisi, che ci ha spiegato proprio il rapporto che c'è fra scienza e pace, ma io lo definirei fra scienza e contemporaneità. Credo che questa interconnessione fra studi umanistici, come quelli presenti in questa università, che è l'Università di Bari, generalista, e la scienza e la tecnologia, sia oggi al centro di un progressivo miglioramento della qualità della vita. Tra le location prescelte, l'antico monastero di San Benedetto, il castello e diverse scuole, parte integrante del festival, anche il premio panarese, rivolto a studenti delle scuole superiori. I migliori podcast di divulgazione scientifica saranno premiati. Certamente possono esplorare tutti i mondi della scienza per i loro podcast. Lo stanno già facendo, li premeremo il 27 sera. I primi tre avranno una menzione particolare e un viaggio nelle città della scienza. Il primo, invece, il primo podcast sarà proiettato sulla rete nazionale di Rai Radio 3. Grazie.